Qual è il significato del termine innovazione e sostenibilità nell'ambito di un'azienda come deve essere Alenia Ermacchi? è quello di riuscire a sviluppare e ad introdurre in produzione dei processi innovativi che consentano di produrre delle strutture aeronautiche complesse, comprese l'installazione dei sistemi o anche un prodotto finito che vola e che può essere consegnato al cliente con dei costi che sono compatibili con la possibilità di avere dei ricavi e dei margini per la nostra azienda il futuro dell'aeronautica a secondo stime di mercato di Boeing nei prossimi vent'anni ci sarà una crescita enorme del mercato aeronautico sia per quello che riguarda i velivoli regionali sia velivoli di media grandezza a lungo raggio questo porterà la necessità di sviluppare nuovi prodotti che siano competitivi sul mercato però la competitività di questi nuovi prodotti non dobbiamo pensare che sarà legata a velivoli supersonici o che possegano chissà quale innovazione ma soprattutto dovranno essere dei velivoli che consentano una margine alle compagnie aeree in termini di bassi consumi di carburante e di manutenibilità in servizio quindi questa grande richiesta da parte del mercato di nuovi velivoli porterà aziende aeronautiche come Alenia e Armacchi a dover partecipare su nuovi programmi confrontandosi in un ambiente sempre più competitivo da un punto di vista tecnologico Grazie a tutti